Il vaccino anti-covid si fa anche nella storica casa del popolo di Grassina. Inaugurato il nuovo polo vaccinale dell'ASL Toscana Centro nel circolo Arci di Bagnarripoli che esiste da 126 anni. Le prime somministrazioni del vaccino Pfizer e Moderna sono state effettuate alla presenza del presidente della regione toscana Eugenio Gianni, del direttore generale dell'ASL Toscana Centro Paolo Morello Marchese e del sindaco di Bagnarripoli Francesco Casini. È il segno di un passaggio da una vaccinazione limitata per le dosi che erano tali a una vaccinazione ben più diffusa che consente in Toscana di vaccinare, l'obiettivo che ci siamo posti per la settimana prossima, 30.000 persone il giorno. Ecco quindi che ormai si va verso il completamento della possibilità di prenotazione dei sessantenni e contemporaneamente, proprio secondo quello che è concordato a livello nazionale, noi arriveremo nella settimana prossima a fare una prenotazione di lungo periodo, ora che abbiamo questi hub, fino a fine giugno sui cinquantenni. Nel centro vaccinale di Grassina saranno somministrate circa mille dosi di vaccino al giorno su cinque linee vaccinali diverse, attive su tre turni, dalle 8 alle 22, sette giorni su sette. Oggi è un giorno molto importante, qui a Grassina abbiamo quasi mille, sono novecento, quindi su tre turni vaccinazioni al giorno, quindi si comincerà a macinare molto. Le dosi, come ha detto il Presidente, cominciano a diventare stabilmente presenti e c'è da invitare tutti a prenotarsi. Il centro vaccinale ospitato alla Casa del Popolo è il primo ad attivarsi nell'area fiorentina sud-est, nel territorio compreso tra il Chianti e la Val di Sieve fino al Val d'Arno.